Il Veneto anticipa la zona gialla e lo fa con un'ordinanza mista di principi e raccomandazioni varata dal presidente Luca Zaia che entrerà in vigore già da sabato e sarà operativa fino al 16 gennaio. Nel provvedimento spicca l'uso obbligatorio delle mascherine all'aperto con le note eccezioni per i più piccoli e per chi versa in condizioni di salute incompatibili con i dispositivi personali. Chi lavora nella sanità e nelle case di riposo dovrà eseguire i test ogni quattro giorni e chi entra in una struttura sanitaria dovrà essere sottoposto al tampone anche nei quattro giorni successivi. Novità pure per le visite nelle strutture sociosanitarie, per i rientri in famiglia degli ospiti di queste ultime e per le quarantene nelle classi interessate da case di positività. La novità è rappresentata però soprattutto dalle raccomandazioni che la regione fa ai Veneti. Eccone alcune dalla voce di Luca Zaia. Raccomandazioni che sono più che raccomandazioni, questa è un'attenzione che chiediamo. Abbiamo voluto introdurle come raccomandazioni. Allora se una persona che ha qualcosa che non funziona, mal di gola, scusatemi gli esempi, ma va sempre bene farli, un po' di raffreddore, costipazione, non sente più il gusto come prima, di aree strane, febbre non ne parliamo, bisogna mettersi in auto isolamento. Adesione alla campagna vaccinale come raccomandazione delle persone non ancora vaccinate con vaccinazione incompleta. Noi, diciamo, fatti in modo di arrivare alla terza velocemente. Adozione da parte delle amministrazioni locali di tutte quelle misure possibili per prevenire gli assembramenti in luoghi pubblici. Ci saranno le feste, no? Adesso è pieno di pranzi, di cene, ma è giusto che ci siano, c'è nessuno dice che non bisogna farle, se possibile, se si vuole, un test rapido che sarà anche tanto contestato, però insomma, con, è sempre meglio che senza.